Non ho molto tempo e vado di fretta. Hai dei pacchi per me? Certamente! C'è un pacchetto che deve essere consegnato con urgenza. Sì, voglio lo suggerirei! Ciao, ciao a tutti! Ottimo lavoro, capo stazione! Ora siamo tutti in ordine! Mucket, sapete i nomi delle forme? Sì! Sì! Mi fa Peppo, lo sono... Buongiorno, sono Peppa Pig! Guardate! Ci sono Pocoyo e Ellie! Ciao, Pocoyo! Ciao, Ellie! Ciao! Oh, no! Ma stanno litigando furiosamente! Ai ai, George si è spaventato. Non avere paura, George. Quello che vedi in tv non è un vero dinosaurio. Oh, piccola scimmia dispettosa! Hai gettato tutta la frutta giù dalla collina! Ciao, ciao a tutti! Ciao, ciao a tutti! Ciao a tutti! Nordi!